La procura spezzina ricorsa in Cassazione contro il provvedimento con il quale il tribunale del riesame aveva bocciato la convalida da parte del GIP De Bellis dei sigili posti al cantiere dell'area dell'ex cava Carlo Alberto alla Palmaria dove è prevista la costruzione di uno stabilimento balneare con relative piscine. Il ricorso in Cassazione promosso dal pubblico ministero Elisa Loris ha visto nella giornata di ieri la presentazione dell'integrazione all'esposto da parte di Lega Ambiente e dell'associazione Posidonia che rivadendo la massima fiducia nell'operato del comando carabinieri forestali e della procura della repubblica nutrono però dubbi sulla procedura che ha portato ad approvare la pratica per la realizzazione dello stabilimento. Tra questi un piano di parco che non prevedeva la costruzione di piscine in quell'area. Come mai il comune di Portovenere si chiedono le associazioni il cui PUC che invece le prevedeva ma solo passando attraverso lo strumento del piano urbanistico operativo che a sua volta avrebbe comportato una valutazione ambientale strategica si è poi accontentato della richiesta del costruttore saltando a pie pari Puo e Vass? La ex casa dei cavatori poi per la quale Piano del Parco e PUC prevederebbero il recupero come ha fatto ad essere abbattuta per essere poi ricostruita nelle forme del progetto? E infine chi garantirà la fruizione pubblica con l'accesso e la fruizione alla scogliera, alla spiaggia, alla zona boscata e rocciosa di interesse paesistico concludono Legambiente e Posidonia.